La politica, nessuna competizione, confini smorza le polemiche del Presidente del Consiglio Berlusconi. In occasione della conferenza stampa a margine del vertice Italo-Russo, il Premier coglie l'occasione per precisare che sono dispiaciuto che i giornali continuino ad attribuirmi espressioni e parole che io non solo non ho mai sognato di dire, ma che non ho neppure pensato. Tutto questo nella giornata in cui il Presidente della Camera Fini nel suo intervento all'inaugurazione del Salone della Giustizia non accenna minimamente alle polemiche nate dal suo fuorionda, ma chiede genericamente di recuperare efficienza, credibilità e fiducia nel sistema giudiziario italiano.